Conferenza stampa mercoledì sera in casa Avis Borussia Policoro. Mister David Ceppi ha voluto inaugurare questo spazio che si svolgerà nella sala Buccolo del Palaercole di Policoro per commentare insieme ai giornalisti la gara del sabato e offrire alcune anticipazioni sulla sfida successiva. Momento di confronto e riflessione che si ripeterà tutte le settimane. Al primo appuntamento assieme all'allenatore era presente anche il capitano della compagine biancorossa Cristiano Scandolara. È stato tracciato un bilancio del pareggio raccolto ad Eboli e si è già pensato alla difficile nuova trasferta di sabato prossimo in casa dell'Augusta. Una gara molto insidiosa per gli ionici che fa pensare alla passata stagione e all'obiettivo finale playoff sfumato proprio sul campo siciliano. A fine conferenza abbiamo incontrato Mister Ceppi e capitano Scandolara nelle interviste a cura di Antonio Martino. Io credo che la mia squadra ha fatto una buona prestazione, partiamo da questo. Ci sono stati dei momenti durante la partita dove possono farmi pensare che è un punto guadagnato. C'è stato il finale di gara che può farmi pensare che siano due punti persi. Torniamo con un punto da Eboli dove non so quante squadre riusciranno a uscire indenni perché è una squadra importante, allenata bene, quindi ce lo teniamo stretto e andiamo avanti. Il campo ai limiti della praticabilità più la questione delle luci che si sono spende, quindi stare fermi un quarto d'ora pensi abbia danneggiato la sua squadra? Io cerco sempre di evitare di parlare di queste cose perché per me sono un po' tutti alibi. Fondamentalmente sono stati fermi anche loro, fondamentalmente scivolavano anche loro. Forse nel vostro momento migliore? Sì, possiamo dire così, però a me non piace lamentarmi, a me non piace lamentarmi mai perché chi si lamenta fondamentalmente cerca un alibi e spesso lo trova. È vero, eravamo sul 3-2, sono spente le luci, pazienza voglio dire, sono cose che capitano. Potevamo secondo me vincere la partita anche dopo che l'Eboli aveva pareggiato, abbiamo avuto le nostre occasioni, non ce l'abbiamo fatta, andiamo avanti e guardiamo avanti. Il calendario ci ha fatto questo scherzetto, andiamo ad Augusta, ovviamente sappiamo che l'Augusta è una squadra importante, noi ci stiamo preparando bene, siamo direi a un buon punto di crescita, andiamo con i migliori spicci ovviamente, cercheremo di dare il massimo, di fare una buona prestazione e speriamo che poi alla fine il risultato ci premi. Ci siamo portati a casa a un punto importante, su un campo importante diciamo, però non dico il ramarico, però se ci fossero stati altri due punti non penso ci sarebbe stata ingiustizia, nel senso abbiamo espresso bene il nostro gioco, abbiamo fatto una grande partita dal mio punto di vista, bene finita il 3, adesso cerchiamo questi punti che ci mancano in classifica, diciamo da altre parti, casa nostra, fuori, perché comunque ci siamo già detti tante volte, noi ovunque andiamo, andiamo per vincere quest'anno senza arroganza, senza strane pretesi, però andiamo per esprimere il nostro gioco nella nostra migliore forma. Penso che nelle partite così principalmente devono uscire fuori la parte caratteriale di ognuno, però questa mentalità vincenti appunto la raggiungiamo vincendo, costruendo piano piano quella solidità che cerchiamo ogni giorno, questi risultati qua, anche la parte individuale e caratteriale di ognuno riuscirà a uscire fuori, a venire fuori. I punti secondo me la classifica nostra in questo momento non fa vedere la squadra che siamo, però è anche vero che per fare i punti deve dimostrare dentro il campo. Per noi quella è stata una grossa delusione, una grossa delusione per il modo anche come è stata la partita, voi c'eravate, dei gol che abbiamo preso, la partita che abbiamo fatto, i gol a pochi secondi dalla fine, quindi vabbè diciamo che è passato, però anche il passato serve per darci stimoli nuovi. Sicuramente quando entreremo in quel campo qualche immagine dell'anno scorso ritorneranno. È un altro campionato, è un'altra squadra, sono altre ambitioni, è un altro momento della stagione principalmente. Noi rispettiamo la squadra loro per la storia Chiano, l'Augusta è una storia importante nel calcio a 5, però sicuramente cercheremo la vittoria. Non diciamo che se perdiamo succede la fine del mondo, però partiamo da qua cercando la vittoria.